Un bilancio assolutamente positivo, soprattutto per i ragazzi che hanno avuto la possibilità in un solo giorno di incontrare più aziende e quindi di confrontarsi realmente con il mondo del lavoro e ovviamente siamo soddisfatti anche per le aziende perché hanno avuto un riscontro estremamente positivo nei ragazzi e soprattutto anche per quello che è l'incentivazione alla ricerca. Con Invitalia abbiamo avuto grossi e importanti appuntamenti sulla possibilità di realizzare un percorso formativo insieme con l'Università di Salerno. Nella giornata d'apertura si è parlato di una novità di questa seconda edizione della Borsa for Sud, il monitoraggio dei colloqui fatti con i vari laureati top che hanno partecipato. Assolutamente, è già iniziato. È iniziato con le interviste sia ai ragazzi ma soprattutto alle aziende per capire se i profili selezionati corrispondevano alle loro reali esigenze e quindi partiamo da questo ottimo risultato e monitoriamo per i prossimi sei mesi l'evoluzione di questi colloqui. Sono già in cantieri di lavoro per la terza edizione? Assolutamente sì, cercando di ampliare ulteriormente il programma ma soprattutto con il coinvolgimento di diversi atenei.